Si è Cortona col vento in poppa, gli impavidi di Nunzio Lanci domenica hanno centrato il quinto successo consecutivo in campionato grazie al quale hanno scalato la classifica essandosi al terzo posto, sei i punti di vantaggio sulla quarta piazza, obiettivo inseguito che è anche garanzia di permanenza in A2 L'odierno approfondimento si occupa proprio del momento positivo attraversato dalla squadra e delle ambizioni future Microfono al DS del team Massimo Donofrio Va detto che domenica riposerete perché c'è la Coppa Italia dove voi non siete impegnati No, noi purtroppo per un 7 siamo rimasti esclusi dalla qualificazione a poter disputare le fasi antecedenti a questa finale Tornerete in campo domenica 17 in trasferta a Cantù Voi venite da una trasferta vittoriosa a Catania, era uno scontro diretto in chiave quarto posto Ricordiamo che la quarta posizione è preziosa perché dà la permanenza garantita in Serie A2 Avete vinto 3-0 questo scontro diretto, gara perfetta Diciamo di sì, diciamo che questa vittoria viene come quinta vittoria consecutiva Le precedenti cinque partite anche inframmezzate dalla sconfitta con Bergamo ci aveva visto sempre comunque in campo vittoriosi Quindi in questo è un momento molto positivo che stiamo vivendo E che per fortuna viene dopo una fase iniziale del campionato che ci aveva visto un po' in difficoltà Chiaro che adesso siamo terzi in classifica, abbiamo distanziato la quarta e ulteriormente la quinta Siete a sei punti dalla quinta posizione Diciamo che la partita di Cantù potrebbe cominciare a essere una partita determinante Per capire effettivamente se questa terza posizione può essere mantenuta Se non addirittura ci può dare la possibilità di scalare la seconda Per capire come a me non andava così male prima Nel senso che questa è la vittoria del gruppo e della squadra Perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo di nuovo avuto un'infortuna importante a Ludovico Dolfo Che è quattro partite che non gioca nonostante la sua assenza Quando rientrerà? Dunque diciamo che per Cantù ci auguriamo di poterla avere a disposizione Forse non in campo ma a disposizione E poi Simone Michele, anche lui, ha avuto una brutta recessione alla caviglia Quindi domenica a Catani abbiamo giocato con una ragazza nel 99 che non ha mai visto il campo Nonostante questo il gruppo, la squadra in questo momento è veramente nella condizione proprio ottimale Quindi è un gruppo forte, un organico importante E anche le persone che normalmente si siedono in panchina Sono pronte a entrare e quando entrano dimostrano Hai parlato di Dolfo, ci sono anche altre individualità ovviamente come Marx per esempio Sì, ho Marx, Christoph che diciamo dall'inizio dell'anno Forse magari all'inizio ha avuto quei problemi fisici derivanti da una scarsa condizione Proprio di partenza con cui si è rappresentato Adesso sta dimostrando di essere sicuramente uno degli opposti più forti del campionato Poi ho Gurchak e Ferro che sta facendo spesso e volentieri la differenza Nei momenti determinati all'incontro E poi ti ripeto anche chi entra anche in battuta come Fiscon Che nella partita scorsa con Gioia è entrato in battuta e ha fatto 5 ace Quindi insomma quando hai a disposizione i giocatori che riescono a strappare in questo modo Nell'arco di un set e poi riesci veramente a vincere L'ultima massimo sul pubblico, sull'ambiente di Ortona che ha sempre vissuto con tanta passione Le vostre imprese come stanno rispondendo sicuramente molto bene Sì sicuramente più dell'inizio dove insomma anche a causa dei risultati Magari la delusione Certo che ancora non abbiamo visto il pubblico di tre stagioni fa insomma E noi ci auguriamo ogni volta che entriamo in palestra per rispondere a una partita Di poter rivedere il palazzetto strapieno come eravamo abituati a vedere Massimo parlavamo di Marx ma anche di altre individualità Ce la farete a tenerle con voi per la prossima stagione? Guarda, non ti nascondo che questi sono i discorsi che cominciano un po' fra di noi Anche a circolare nello sfogliatoio fra noi dirigenti, tecnici e quant'altro Chiaro che noi stiamo giocando con un organico molto 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 giovane Il tedesco è del 97, abbiamo un centrale che sta entrando nel 99 Mattia è un sorrente, un 96 Sono ragazzi assolutamente interessanti E' un gruppo che tolto un paio di giocatori un po' più importanti e grandi Può veramente continuare a rimanere unito e garantire una continuità Il nostro intento è proprio quello di già orientarci sull'anno prossimo Per vedere di mantenere questo nucleo diciamo di giocatori Magari inserendo giusto quel tassello uno o due Che possono andare a imprezziare ulteriormente questo gruppo molto forte Provo a fare il tifoso e a sognare un po' Come società, come potenzialità La si è come in Pavi d'Ortona Potrebbe anche sognare di andare nella massima serie in A1 Oppure la sua dimensione è questa? Noi sognare non costa niente Sicuramente se giochiamo ogni partita cercando di vincere Vincendo continuamente Il rischio è proprio quello di vincere un campionato Ti parlo di rischio perché sarebbe una cosa meravigliosa, bellissima Ma che comporterebbe chiaramente delle problematiche importanti A livello proprio di gestione anche economica della situazione Perché parleremo di costi enormemente più alti Ma anche di una struttura Per esempio il palazzetto non è idoneo per fare la Superlega Quindi diciamo che noi giochiamo con una logica di poterci divertire E ci divertiamo chiaramente vincendo Se dovesse poi succedere quello che in questo momento Non è che noi pensiamo che sia così facile e alla portata E' ovvio che in qualche maniera poi si cercherà di organizzarsi Facendo un po' qualche conto Che sicuramente vi sarete fatti anche voi Quanti punti occorrono ancora all'Ortona Per poter dire siamo salvi? Ma allora diciamo che Il quarto posto almeno La partita di Cantù è sicuramente una partita Che in questa ottica è fondamentale Perché ci consente di rimanere ancora a 4 Se non di incrementare ulteriormente Dopodiché giocheremo in casa con Piacenza E lì sappiamo che il risultato non è sicuramente sicuro E da quel momento in poi abbiamo quelle altre 2-3 partite Sicuramente alla portata Quindi io credo che Mi aspetto di riuscire a ottenere punti In tutte le partite che mancano fino alla fine Quindi addirittura incrementare questo vantaggio sulla quarta Che poi ha solo il senso di scegliere una squadra Un po' più abbordabile nella fase dei play-off Quando andremo a incrociarci con l'altro girone Lo dicevi prima Massimo Dietro la squadra maggiore ci sono tanti giovani E voi qualche mese fa Se non ricordo male nel mese di novembre Avete ottenuto una certificazione importantissima Ecco ci vuoi spiegare di cosa si tratta? Noi siamo una delle società a livello nazionale Tra le 30 e 40 insomma che hanno ricevuto questa certificazione Proprio per il lavoro svolto a livello giovanile Diciamo che è una gratificazione importante Per quello che è un impegno che comunque come società portiamo avanti da sempre Noi nasciamo come società che a livello giovanile negli anni 80 ha vinto un titolo under 18 Un titolo under 16 Contestualmente in quegli anni era riuscito ad arrivare addirittura a disputare un A2 Erano tempi diversi, una situazione totalmente diversa Però in quei frangenti molti di quei giocatori del settore giovanile furono impiegati per questo risultato Abbiamo sempre continuato con i giovani e crediamo fortemente che una dimensione come la nostra possa mantenersi a questi livelli Solo e esclusivamente per il fatto di poter di tanto in tanto riuscire a inserire dei ragazzi propri Mi piace concludere questa intervista con una curiosità Da quanti anni la famiglia Lanci fa pallavolo a Ortona? Io penso che sono trentina di anni, forse più Nel senso che il presidente è presidente da una quindicina quasi Però Tommaso Lanci è sempre stato coinvolto nell'impavida Anche quando era per lavoro imbarcato e quindi non era costantemente presente Ma aveva sempre da allora sostenuto anche economicamente la società Poi con i figli Andrea e Nunzio che hanno iniziato a giocare E avendo cambiato poi la sua tipologia di lavoro Rimanendo quindi non più imbarcato ma a terra Si è sempre più impegnato e da tripeto da una quindicina di anni In maniera assolutamente attiva con il presidente Grazie a tutti Grazie a tutti